Scusi, dove l'ha comprata questa macchina? Eh, all'officina. Io un colpo di telefono, vedrà che combiniamo. Davvero? Ah, le piace, è una Pegasi di tempesta, è bella. Queste sono le auto più belle che ha. Ha l'officina, queste cose sono le auto spettacolari. Se vuole, combiniamo. Mi dà un paio di milioni, due milioni di dollari e te la do. Scusi, guardate la macchina. Scusi. Scusi. Dove l'ha comprata questa macchina? Eh, all'officina. Io un colpo di telefono. Ti ho detto prima. Vedrà che combiniamo. Ti ho detto prima, l'ho presa all'officina. Va bene, come vuole lei. Tenga, questa si chiama macchina. Signora, la saluto. Scusi. Scusi, guardate le tue. Scusi. 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 Grazie.